9 giorni in fiera, le porte della primavera in arrivo, Orto Giardino a Pordenone raggiunge l'edizione numero 42 mantenendo lo standard di festa della natura che associa alternandoli rigogliosi allestimenti a giardino con 200 standard commerciali curati dai professionisti del settore, ovvero vivai, floricoltori, rivenditori di bulbi, sementi e concimi, attrezzature per il giardinaggio, mobili per estermi. Ma vi saranno anche architetti, pesagisti, vivaisti, agronomi, progettisti del verde pubblico a spiare e fare le proposte del Festival dei Giardini, spunti per le proprie attività. Il tema varia a ogni edizione, quest'anno sarà il giardino segreto chi cerca trova. La commissione tecnica ha selezionato 10 progetti che sono stati realizzati all'interno dei padiglioni della fiera per essere votati da addetti ai lavori e dal pubblico in visita. Saranno 20.000 metri quadri di aree della fiera di Pordenone che attendono più di 4.000 visitatori dall'intera Alpe Adria. Oltre a quelli locali sono attesi gruppi organizzati da Slovenia, Croazia e Austria. Sarà ancora una volta ricco il programma di eventi collaterali, primo fra tutti il Salone dei Sapori con specialità enogastronomiche tipiche da tutta Italia al Padiglione 3. Il mercato a chilometro zero di Campania Amica a cura di Coldiretti al Padiglione 8, mentre al Padiglione 9 ci sarà l'Emporio Verde, mostra di arredi e decori per giardini e terrazzi realizzati da artigiani e piccole aziende. Al Padiglione 5 Pordenone e Orchidea è aggiunta la ventitresima edizione. Allestimenti spettacolari incontri culturali ed enogastronomici fanno la cornice all'esposizione di oltre 150 diverse tipologie di orchidee di collezioni private o coltivatori professionisti. Altro giardino sarà quello dei libri, un nuovo percorso frutto della collaborazione con fondazione Pordenonelegge.it. Due incontri in programma martedì 7 con un focus sulla foresta di perle, come ritrovare il nostro contatto con la madre terra dell'epidemiologo Franco Berlino alla fotoreporter Enrica Bortolazzi e sabato 11 marzo con il green designer Andrea Mati, autore del saggio Salvarsi con il Verde. Fanno parte del programma di Orto Giardino anche incontri di carattere tecnico dedicati ai professionisti del Verde. I biglietti di entrata costano 9 euro, ma c'è una promozione online che consente l'acquisto del biglietto ridotto a 7 euro collegandosi al sito ortogiardinopordenone.it.